Amore, sai cosa mi ha detto la sorellina? Mi ha detto, vorrei un bacino da Leo, sentila Ma, ma l'ho già dato Ho capito che l'hai già dato, ma se gliene dai due non è che ti consumi Ma io, ma io, ma io, ma io, ma io, ma mi fa male la manina Ti fa male la manina? Ma guarda che sei veramente... Ma io l'ho già salutata Ma quando? Quando è arrivata? Un bacino, dai, un bacino amore Con la mano? Con la mano, va bene, dai No, sei sicura? È la più bella Ma che roba è? Minchia In quanto è stato qua? Quattordici Quattordici Ah, e lui fa partire i suoni Minchia Sei un fusto Cretino Non fusto È un pochino... Eh, che c***o, spostati Aspetta per farmi vedere... Si vede? Si vede? Si vede? Ok, 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 ci teniamo Ci teniamo a farvelo vedere Ok, ciao L'assistente dopo un mese di covid finalmente negativa Uh, usciamo a festeggiare amici Con la curiosità su LOL amici Allora, dovete sapere che prima di girare lo show vero e proprio Io e Mara abbiamo fatto una finta gara Con al posto dei comici delle comparse Però che è stata una gara a tutti gli effetti Che è durata sei ore Come la gara vera E c'è stata anche la consegna del premio Di questa finta gara E questo sono io che consegno il premio di LOL La cosa che dovete sapere è che io ho un provvedimento restrittivo da parte di Amazon Per cui non mi mandano le puntate da vedere prima Per paura che le spoileri Ve lo giuro Davvero non me le mandano perché ho paura che le spoileri Tutto sto pippone per dire che sto fremendo anch'io Perché non ho visto neanche io le puntate Spero abbiano messo tutto ragazzi Perché verso la fine vi giuro Cioè si vola altissimo Non parlo sennò mi licenziano Ciao a domani Oddio 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 Grazie a tutti